Il treno regionale, 8654, di Trenitalia, proveniente da Caltanisseta Centrale, è diretto a Catania Centrale, delle ore 6.05, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Enna, Leonforte Pirato, Dittaino, Catena Nuova, Bicocca. Il treno regionale, 8598, di Trenitalia, proveniente da Roccapalumbalia, è diretto a Catania Centrale, delle ore 7.21, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Enna, Leonforte Pirato, Dittaino, Catena Nuova. Il treno regionale, 12817, di Trenitalia, proveniente da Catania Centrale, è diretto a Grigento Centrale, delle ore 10.28, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 8673, di Trenitalia, proveniente da Catania Centrale, è diretto a Catanissetta Centrale, delle ore 20.15, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Catanissetta Xirbi. Attenzione! Iscrivetevi, commentate e mettete mi piace. Al prossimo video!